ciao a tutti oggi in questo video vi faccio vedere come si installa un motore un'automazione per serrande per saracinesche quelle di ferro dei negozi può tornare utile a colleghi installatori qualcuno che magari non ha dimestichezza per la prima volta si trova a doverne montare uno ma può tornare utile anche a qualche privato che magari ha delle saracinesche metalliche montate in locali particolari o comunque anche abitazioni normali ci sono dei posti dove magari nel garage su strada mettono le saracinesche zincate insomma può capitare se vi trovate ad installarlo magari può tornarvi utile vi farò vedere come si monta un motoreduttore a 230 volte della cardin è una marca di automazioni che se posso uso molto volentieri perché sono prodotti di qualità molto alta ma diciamo che più o meno il sistema è uguale anche per gli altri ma prima di andare avanti col video mi raccomando iscrivetevi al canale ci vanno due secondi non vi costa niente e mi fareste un grosso favore iscritti ora vi farò vedere prima diciamo lo spacchettamento di cosa contiene un kit in seguito analizzeremo bene il manuale di istruzioni che viene dato insieme perché aiuta già tanto è fatto molto molto bene in italiano con immagini chiare e poi vi farò vedere tutta la fase del montaggio con il mio parlato registrato in postproduzione perché non avevo modo di registrare anche quello che facevo già che mi hanno tra virgolette prestato il locale dove stavo facendo un lavoro per registrare il video capiterà molto spesso che cercherò di portare sul canale dei video di lavorazioni che faccio presso clienti che gentilmente mi concedono di perdere un po' di tempo nella loro proprietà non riesco proprio a fare i video come quando li giro in sede da me ecco partiamo col video e ne riparliamo alla fine troviamo quindi manuale dettagliato di istruzioni manopola per la frizione da agganciare al filo metallico due viti di diversa lunghezza è una rondella uno spessore in plastica nera una mezzaluna un bel pezzo di qualche metro di cavo a quattro fili e infine il nostro blocco motore con già attaccato il filo d'acciaio che viene poi comandato dalla manopola che serve a staccare e riattaccare la frizione manuale di installazione che è veramente molto molto chiaro vi dà già anche tutto l'elenco dell'attrezzatura necessaria servirà ovviamente un trapano avvitatore con delle punte per forare nello specifico servirà punta da 10 mm e mezzo e punta da 12 io ho usato una punta da 10 e poi dopo la si fa giocare un po' dentro non è quello il problema chiave esagonale da 6 mm chiave a brugola per tutte le varie viti che vedremo nella fase di montaggio chiave fissa da 17, chiave fissa da 16, chiave fissa da 10 poi vabbè cacciavite a taglio, cacciavite a stella, pinze, spella fili, forbici queste sono le dotazioni normali dicono passo passo come procedere al montaggio tutto quello che vedete qua nelle figure sarà quello che vedrete nel video se la tapparella è troppo distante dal motore si userà questo spessore e la vite più lunga delle due fornite in dotazione mentre la manopola della frizione dovrà essere svitata per tirare il filo d'acciaio e riavvitata per riattaccarla ora bisognerà disassemblare la ganascia intorno al motore con la chiave a brugola da 6 provvediamo a rimuovere le due viti e ad estrarre i due semicerchi, le due metà di tutta la cremagliera circolare ora consiglio di procurarsi un paio di guanti in lattice o in nitrile perché bisogna estrarre il gruppo cuscinetti pieno di grasso sempre con la brugola da 6 dobbiamo rimuovere le quattro viti che tengono i due collari intorno alla parte centrale una volta rimosse tutte quante facciamo attenzione perché la vite che avvita dove c'è il pignone del motore è più corta delle altre quindi ricordiamoci bene di distinguerla in fase di rimontaggio sul rullo una volta rimosse le quattro viti verrà via metà di questa parte cilindrica che va intorno al rullo e noteremo subito la presenza di una vite che spunta e di una vite che ha filo questa che spunta sarà la vite che andrà a prendere il foro sul rullo per consentire il movimento mentre l'altra servirà solo per tenere fermo il blocco rimuoviamo anche i due distanziali in plastica e il motore è pronto per essere portato sul rullo per queste lavorazioni ovviamente è consigliato l'utilizzo di un piccolo trabattello perché la stessa operazione da fare sulla scala non è proprio il massimo chi è che abbiamo la serratura? chi è che abbiamo la serratura? ora come da manuale dobbiamo segnare il centro esatto del rullo sulla sua lunghezza e in seguito dobbiamo fare un segno spostandoci di 5,5 centimetri a destra quello sarà il punto esatto dove dovremo praticare il foro da 10,5 millimetri ora per comodità siccome il foro dovrebbe essere perpendicolare al pavimento si può tirare un pelino sulla tapparella per consentire una foratura più agevole il foro deve essere passante e se non avete la punta da 10,5 va benissimo una punta da 10 come questa arrivati alla fine del foro si può giocare un po' inclinandola sui lati per ottenere quel mezzo millimetro di gioco necessario far entrare la vite queste non sono misure da fare precise al decimo per verificare la misura corretta del foro si può prendere la mezza flangia di prima posizionarla sopra il foro e verificare che entri correttamente possiamo ora posizionare i due spessori sul rullo verificare che il foro vicino alla parte più stretta di bordo sia a destra non può essere montato al contrario ora dopo aver posizionato il distanziale possiamo appoggiare il motore sul rullo facendo in modo che non cada e lasciandolo incastrato nello spazio esatto che rimane tra lui e la saracinesca a questo punto prendiamo l'altro distanziale l'altra metà del distanziale e sempre rispettando la posizione del foro rispetto al bordo più stretto lo inseriamo nella parte inferiore rimettiamo il rullo con il foro nella posizione perpendicolare al pavimento se presentando la metà del collare inferiore ci accorgiamo che non entra nel buco passante possiamo dargli una ripassatina con la punta per allargare ai famosi 10,5 mm proviamo quindi a riposizionare la parte con il distanziale in mezzo e a questo punto la vite entra perfettamente nel foro allineiamo bene il tutto per consentire l'inserimento delle quattro viti che vanno a chiudere il blocco ricordandoci di mettere quella più corta nel filetto vicino al pignone mandiamo in battuta le quattro viti ma senza tirarle definitivamente una volta mandate in battuta tutte e quattro le viti vediamo che il motore inizia ad alzarsi e a mettersi in posizione infiliamo quindi la vite quella con il controdato fino ad arrivare a battuta per tenere fermo il motore dopodiché serriamo il controdato per impedire lo svitamento e possiamo procedere al seraggio definitivo delle quattro viti a brugola ora possiamo srotolare la guaina con dentro il cavo d'acciaio questa guaina con il cavo dovrà passare all'interno del tubo cilindrico sfruttando i fori preesistenti fatta questa procedura dovremmo anche riuscire ad imboccare la parte filettata che servirà per regolare la tensione del cavo nel motore una volta riusciti ad avvitare questa parte filettata per tirare il cavo dovremmo fare lo stesso passaggio all'interno della tubazione anche con il cavo elettrico lasciamo il cavo elettrico di una lunghezza comoda per effettuare i collegamenti verrà poi tirato a misura in un secondo momento ora apriamo il coperchio della parte elettronica montiamo anche la maniglia per tirare la frizione bisogna quindi togliere il fermo far passare il cavo attraverso la maniglia legarlo dalla parte opposta cercando di tirare il più possibile il dado verrà serrato poi con la chiave da 10 o con una pinza adeguata una volta messo in tiro il cavo praticamente svitando la manopola andremo a tirarlo sulla frizione del motore per liberare il movimento della serranda se con la manopola svitata la frizione non riesce ancora a sbloccare il motore dobbiamo agire sulla regolazione per tirare il cavo d'acciaio fino ad ottenere lo sblocco del motore a questo punto possiamo riposizionare i cuscinetti ingrassati e iniziare a mettere la prima metà della cremagliera dobbiamo cercare di posizionarla portandola in battuta contro il pignone e in seguito a questo primo posizionamento cercando di aiutarci con il movimento del pignone e della saracinesca stessa dobbiamo riuscire a far prendere i denti della cremagliera sul pignone fino a farlo entrare totalmente altrimenti verrà poi impossibile inserire la seconda metà della cremagliera raggiunta questa condizione abbiamo quindi la possibilità di inserire la seconda metà senza fare nessun tipo di sforzo e una volta messa in posizione accoppiata perfettamente possiamo procedere ad inserire le due viti e a definirle con il corretto serraggio utilizzando la chiave a brugola da 6 una volta mandata in battuta la prima vite dobbiamo ruotare con forza la cremagliera per consentire l'accesso al filetto della seconda vite una volta portata in battuta si può serrare definitivamente e per tornare a serrare la prima vite dobbiamo di nuovo ruotare tutta la cremagliera per avere accesso alla prima vite arrivati a questo punto si può fare il fissaggio definitivo e con la parte meccanica abbiamo finito ora analizziamo il sistema dei fine corsa che è molto importante quello di destra stabilisce la chiusura quello di sinistra l'apertura una volta liberato il carrello tramite queste ghiere ruotandole su questa barra filettata possiamo poi definire la posizione precisa ma la barra filettata di plastica ha una fine quindi per determinare la corretta posizione del carrello dei fine corsa con la saracinesca tutta chiusa dobbiamo aprire la rotella del fine corsa di chiusura quasi fino alla fine e se non arriva a chiudere il micro dobbiamo far fare una rotazione alla cremagliera in modo da spostare tutto l'asse delle ghiere di regolazione se non facciamo questa operazione non riusciremo a definire la posizione di chiusura una volta che arriviamo alla pressione del micro possiamo fermarci e la regolazione definitiva sarà fatta in una fase successiva non era vero che la parte meccanica era terminata l'ultima operazione da fare è fissare la saracinesca alla parte della cremagliera rotante quindi bisognerà effettuare sulla saracinesca un foro da 10 e mezzo in corrispondenza di questo foro filettato per aiutarci possiamo muovere tutto il blocco e anche la serranda per riuscire a portarla in una posizione più comoda e iniziare poi a praticare il foro esattamente in corrispondenza del foro filettato che abbiamo sulla parte sottostante una volta terminato il foro possiamo riportare il tutto in posizione cercando di centrare l'inserto filettato con il foro della saranda per permettere di avvitare la vite vite che ricordo dobbiamo prendere la più corta delle due in dotazione la inseriamo nel foro, la avvitiamo nel filetto e possiamo già procedere al serraggio definitivo questo servirà praticamente a tenere appesa la sarranda alla cremagliera che a sua volta ruoterà grazie al pignone, all'ingranaggio che c'è sul motore arrivati a questo punto il carrello che porta diciamo le ghiere per la regolazione di fine corsa potrebbe essersi spostato quindi cerchiamo di ripristinare la condizione in cui va a premere il micro di chiusura portiamo anche un po' all'esterno il contro dado che servirà alla fine per fissare la ghiera per evitare che possa muoversi svitiamo anche un po' la ghiera per il fine corsa di apertura e possiamo poi procedere a iniziare a spellare la guaina che contiene i quattro fili facciamo una misura che sia idonea con il filo più lungo che quello di terra che va fissato a quel punto di terra messo là sopra sulla scocca del motore effettuiamo una spellatura abbastanza lunga e tiriamo un po' indietro il cavo dentro il rullo per lasciarlo a misura che sia corretta e non troppo lunga perché potrebbe impigliarsi nei meccanismi arrivati a questo punto vi svelerò un trucco vi insegno come si effettua il fissaggio di una terra su un punto di terra senza utilizzare il capicorda facciamo una spellatura abbastanza lunga da permettere l'inserimento di un cacciavite o della punta delle forbici in modo da creare all'interno del rame lo spazio per la vite una volta creato lo spazio per la vite abbiamo la possibilità di inserire la vite di terra garantirà un fissaggio idoneo e sicuro nello stesso tempo la parte isolante sul rame andrà a fare una finitura sia funzionale che estetica e questo sistema permetterà anche di essere molto più comodo perché permette di tenere la vite incastrata nel rame che in queste condizioni diciamo non proprio comode è tutto a vantaggio dell'installazione una volta serrato il punto di terra possiamo spelare i tre fili che sono il neutro comune la fase di salita e la fase di discesa e possiamo andarla inserire nella morsettiera collegati i tre fili possiamo rimettere il coperchio della parte elettronica e fermarlo in sicurezza con le due viti in dotazione arrivati a questo punto dovremo ottenere un risultato del genere con tutto il dispositivo montato e collegato con il cavo della frizione e dell'alimentazione che passa all'interno del tubo e che fuoriesce dal lato sinistro l'ultima operazione da fare è mollare la frizione quindi avvitando il pomello e verifichiamo alla fine che lo sblocco sia avvenuto e che il motore non sia più libero di girare ecco per la regolazione io di solito vado in giro con un comando tapparella classico quindi un commutatore si chiama proprio comando tapparella dove di solito mi attacco una prolunga con una spina ponticello la fase e predispongo già due morsetti di uscita per la salita e la discesa in questo modo lo lascio premuto senza doverlo tenere con la mano e si riesce a lavorare meglio con la regolazione lì ci sono vari modi io faccio così c'è chi fa in altri modi ma il concetto è comunque riuscire a trovare la regolazione perfetta quindi con tapparella chiusa e il micro di chiusura premuto andiamo a chiudere lo sportello molto importante perché altrimenti nella rotazione si spacca tutto e facciamo fare un primo ciclo di salita sicuramente la tapparella arriverà a un certo punto e si fermerà prima del dovuto questo vuol dire che dovremmo spostare la ghiera del micro di chiusura la parte di chiusura è quella di sinistra quindi se il micro viene premuto troppo presto vuol dire che dobbiamo spostare la ghiera più verso destra allontanandola dal micro in questo modo la tapparella salirà un po' di più rifacciamo la prova e bisogna andare avanti finché non troveremo la posizione corretta rifacciamo la stessa procedura questa volta lo spestiamo un pelino meno fino a trovare con precisione assoluta la chiusura perfetta una volta trovata la posizione perfetta bisogna fare l'ultimo serraggio quindi oltre ad avere il coperchio che va a bloccare i dentini della ghiera abbiamo questo contro dado da portare in battuta per evitare che possa svitarsi involontariamente questa è una operazione da fare che è molto molto importante perché altrimenti nonostante la bloccaggio del coperchio potrebbe sregolarsi la posizione della ghiera rispetto al fine corsa effettuiamo quindi il bloccaggio di sicurezza con il contro dado sia sulla ghiera di sinistra dell'apertura che sulla ghiera di destra della chiusura a volte potrebbe essere un po' più duro del solito se è più duro del movimento a mano vi potete aiutare con una pinza o con una chiave fissa come verifica visiva finale della corretta installazione dobbiamo avere il cavo inguainato quello d'acciaio che passa all'interno del tubo il cavo di corrente che passa all'interno del tubo tutti i vari fili fissati eventualmente con fascette per impedire che il movimento della tapparella possa strapparli o incepparsi questo è un montaggio fatto a regola d'arte lavoro terminato bene avete visto tutta la fase di montaggio dunque due o tre accortezze due o tre caratteristiche allora il tubo centrale spesso sovente volentieri potrebbe essere già predisposto anche del foro per il fissaggio della vita di blocco io infatti in questo locale ne ho montati 5 sulle tapparelle più lunghe avevo già il foro passante centrale e anche già decentrato per il corretto montaggio invece ho fatto il video proprio su quella più piccola perché era l'unica non forata così vi ho fatto vedere la procedura completa i passaggi per il cavo della frizione e il cavo elettrico normalmente dovrebbero esserci altrimenti sono da forare anche quelli per il resto è un'installazione secondo me molto molto semplice ci metti un attimino per imparare primo magari prendi un attimo di mestichezza poi dopo vai tranquillo come vi ho fatto vedere nel video c'è un accessorio quello spessore di plastica quella mezzaluna che viene messa solo quando diciamo la ganascia dell'automatismo è molto lontana dalla tapparella ma nel mio caso ho già fatto fatica a far scorrere la tapparella sulla ganascia perché era veramente attaccata lì dipende un po dalla situazione se il video vi è stato utile vi è piaciuto vi chiedo soltanto un bel like mi raccomando seguitemi su instagram perché metto sempre tutte le anteprime di quello che sto per combinare il link del video e dei prodotti in esso contenuto li trovate come al solito nel mio canale telegram il link di massidattoli o nella mia pagina amazon massidattoli tech solution io vi ringrazio ci vediamo alla prossima diretta del giovedì sera o nel prossimo video ciao da massidattoli ciao